Teresa Pagani di Valdigrano, azienda che è stata premiata come migliore azienda emergente dalla nostra ricerca. Quali sono state le strategie che avete adottato per crescere e quali difficoltà avete incontrato? Allora, sicuramente le strategie per crescere sono state puramente di vendita e di investimento nell'export, quindi nel puntare nel prodotto made in Italy. Noi produciamo pasta secca, quindi fortunatamente nel nostro settore, pur essendo molto battagliato, il made in Italy è importantissimo. E questo è stato uno degli aspetti che ci ha fatto appunto crescere, investire molto e ovviamente questi investimenti portano a volte delle difficoltà, soprattutto nel paese in cui viviamo, che sicuramente a livello fiscale, politico, eccetera, non è che proprio sia d'aiuto, però insomma stiamo cercando di fare del nostro meglio sempre.